Per farci un bel prato, su! Per fare il salto in lungo, vero? No, oggi facciamo la gara di salto triplo. Forza ragazzi, pronti per la gara? Ehi, dove siete? Dai, stai nascosto. Chissà che dire ai professori. E' ora di cominciare la gara. Attenti! Un, due, tre, bravo! Semplice, no? Come il salto in lungo, solo che invece di un salto se ne fanno tre. Io preferisco il salto in lungo. Un, due, tre, bravo! E tu, perché ne hai fatti cinque? Mi sono sbagliato! Beh, sono abituato a fare un salto solo. Tre! Un, due, tre! Dai! Uno! Un, due, tre! Un, due, tre! Al vincitore, la medaglia da campione olimpionico di Ramek. Già, tutti vorrebbero vincerle, le medaglie da campione olimpionico. E con Ramek, tutti le vincono. Dentro ogni scatola, c'è sempre una medaglia da campione delle Olimpiadi di Monaco di Baviera. Calcio! Vuoto! Ci sono tantissimi altri sport nella grande raccolta di Ramek. Ed è buono, Ramek. Che formaggino! È un pieno di energia. Kraft, cose buone dal mondo. E poi, 5 Consigli di Rugby. E poi, insomma, le con Spotify di Ramek. E poi, anche insomma, beiordu vincerne. Ho obiettivo!